Ciao a tutti, come state? Spero che stiate bene ed è un piacere anche incontrarvi, anche incontrarvi fra virgolette perché non è che ci stiamo incontrando, la legge non ce lo permette, lo facciamo attraverso uno strumento mediatico come il telefonino o il computer. E legato a questo ho avuto un'esperienza particolare in settimana, ero così collegato con altri fratelli e altre sorelle che sparse sul territorio nazionale, a un certo punto viene data la possibilità a un fratello di Piacenza di pregare e mentre pregava poi viene da sorridere perché ringrazia il Signore per il computer. A questo punto viene venuto da sorridere anche a me, perché? Perché è inusuale dover ringraziare il Signore per il computer, ma grazie a Dio che abbiamo il computer perché se no sarebbe stato veramente difficile anche fare un collegamento come questo. Siccome ho poco tempo e non è da me, perché per chi mi conosce mi prolungo sempre un po' di più, quindi devo stringere e così prendere quanto meno è possibile e darvi quanto più possibile. Mi è stato chiesto di poter trattare l'argomento del sapere aspettare. È un argomento particolare se devo dirvi la verità. È qualcosa che accomuna la maggior parte degli individui fuori e dentro il nostro ambiente. È la mancanza di forza nel contrastare l'indomabile desiderio che le cose si realizzino nei tempi e nei modi che riteniamo noi più opportuni, che riteniamo noi più opportuni. E per essere più espliciti, all'uomo manca la pazienza di aspettare e la forza di accettare. Non ha né la forza né la pazienza di aspettare, ma non ha anche la forza di accettare anche le conseguenze o le situazioni particolari che si sviluppano a volte alla fine di questa attesa, se non sono secondo ciò che noi riteniamo di dover ottenere. Quindi andiamo fuori da quello che è il concetto di Dio che ci chiede di aspettare perché egli è un piano per noi e lo vuole realizzare secondo i suoi presupposti, non secondo i nostri. Perché a volte noi ci portiamo dietro la vecchia mentalità che vogliamo dirigere le cose perché poi possiamo ottenere ciò che noi abbiamo bisogno o vogliamo ottenere. Ma il Signore non ragiona in questo modo. Egli ci deve modellare all'immagine del suo figliolo Cristo Gesù e lo fa nelle maniere più opportune e che sono quelle che poi dovranno portarci ad avere un bagaglio utile per il nostro cammino spirituale. Noi abbiamo un esempio particolare nell'Antico Testamento che ci fa vedere come a volte non siamo in grado proprio di poter ottemperare a questa attesa. Il cattivo esempio è stato quello di Saul. Infatti se andiamo in Prima Samuele capitolo 13 e leggiamo soltanto il versetto 8 e 9 dice Egli aspettò sette giorni secondo il termine fissato da Samuele ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza e offrì l'olocausto. Ma che cosa succede? Al versetto 13 allora Samuele disse a Saul tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Ecco Saul non ha saputo aspettare, ha visto che il popolo stava scappando, lui si stava trovando in una situazione negativa, allora accelera i tempi, non aspetta l'ordine che gli era stato, non ha saputo aspettare l'ordine che gli era stato dato da Samuele, ecco che offre lui il sacrificio e questo gli sarà controproducente. E quindi fa la bellezza di quattro errori. Il primo è che Saul ha avuto modo di concentrare l'attenzione su se stesso, mette se stesso al primo piano e quindi le sue esigenze, si appoggia sul suo discernimento e quindi sulle sue scelte, non ponendosi il problema su quello che poteva essere la volontà di Dio in quel momento e nonostante il rimprovero che riceve, continua ad appoggiarsi su di sé. E infatti quello lo possiamo leggere nel capitolo 15, sempre dello stesso libro, versetto 22 e versetto 23. Ecco, sono gli errori che normalmente facciamo anche noi. Le situazioni che andiamo ad attraversare riteniamo che siano situazioni difficili, vogliamo che invece si risolvano nel modo che la nostra vista carnale, perché siamo ancora in una fase di trasformazione grazie all'opera dello Spirito Santo, ecco che ci fanno deviare e non sappiamo e non abbiamo la forza di vedere ciò che Dio ha pianificato per ognuno di noi. Vedendo sprigionarsi in modo meraviglioso la potenza di Dio, ma vediamo soltanto lo stato di delusione perché poi alla fine non riceviamo neanche quello che volevamo ottenere, perché il Signore è in piena contrapposizione con ognuno di noi. Altra storia invece, direi più positiva, è stata quella di Giosuè, nel quale a un certo punto, prima di andare ad attaccare Gerico, aspetta le indicazioni, ecco che arriva l'angelo dell'Eterno e gli dice io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo adesso, ecco arrivo adesso, né prima né dopo adesso. I tempi del Signore sono i suoi tempi e noi dobbiamo aspettare quei tempi, ecco che egli interviene nel modo più opportuno e nel tempo più opportuno perché io possa ricevere tutto ciò che mi è necessario per poi arrivare a conquistare le cose che mi sono necessarie. Infatti gli saranno date le indicazioni a Giosuè e le modalità per poter fare in modo che Gerico venisse conquistata, modi insoliti che noi ovviamente non riusciamo a comprendere e che portano a volte anche a delle derisioni, perché volete immaginare i soldati che erano sulle mure a Gerico, quanto hanno riso vedendo tutta sta gente che continuava a girare sette volte per sette giorni e queste benedette trombe che suonavano, dice ma questi dove vogliono andare? Ma intanto mura spesse, quattro metri e più, doppie mura, alte quindici metri, ecco che si frantumano completamente, completamente. Dobbiamo fare la volontà di Dio. Egli ha le modalità che più riterrà opportune di dover farci noto, ma noi dobbiamo avere la forza di aspettare i tempi del Signore. Come li aspettiamo? Se noi andiamo a leggere un versetto di prima a Timoteo, Paolo dice a Timoteo stesso, nel caso io dovessi tardare, devi sapere come comportarti nella chiesa dell'indio vivente, colonna e sostegno della verità. Ecco, nel caso io dovessi tardare, noi stiamo attraversando, per esempio, in questo periodo del coronavirus, del tempo. Tempo che si moltiplica, prima era una settimana, poi quindici giorni, poi tre settimane, poi quattro, cinque, la quarantena è diventata cinquantena. Nel caso dovessi tardare, ecco che tu sappia come comportarti nella casa dell'indio vivente. come stiamo sfruttando il nostro tempo, come lo stiamo utilizzando, che domande stiamo facendo al Signore, che risposte stiamo ricevendo. Mi sto angosciando soltanto sentendo i telegiornali e sapendo quanti morti ci sono su questa terra, in questo momento, grazie al coronavirus. Mi sto concentrando soltanto la paura di non prendere il coronavirus, di non trasmetterlo, soltanto questo. Alla fine avrò soltanto questa consapevolezza di essere scampato da una cosa negativa oppure alla fine di tutto potrò dire grazie Signore perché quello che dovevo comprendere io l'ho compreso, adesso sono ben equipaggiato per essere utilizzato da Te. Ecco fratelli e sorelle, questo deve essere la nostra domanda. Saper aspettare, ma saper utilizzare il tempo nella giusta attesa per essere ben equipaggiati, per poi glorificare il Signore in qualsiasi attività Egli ci potrà chiamare. Fuori dalla Chiesa, all'interno della Chiesa. Ci sono diverse lacune che vanno colmate. Fratelli e sorelle, non perdiamo tempo. Utilizziamo questo tempo proprio per comprendere la volontà di Dio. Saper aspettare, ma nel giusto modo, in un modo intelligente, dell'intelligenza spirituale di cui il Signore vuole che noi siamo ricolmi. Che il Signore ci benedica. Vi voglio bene. Grazie. Grazie.